Bene, oggi siamo qui assieme ai sindacati per vedere un tema molto importante che è quello della digitalizzazione che ha dei risvolti non solo nella vita di tutti noi, nell'impresa, ma anche nei rapporti tra noi e il sindacato. Sarà un tema importante, altri temi naturalmente ci sono, voi sapete che si sta alzando anche il tono del contrasto. Io personalmente credo, e lo dirò anche a Landini, che non è una buona idea in una fase come questa alzare il tono e incitare la rivolta sociale. Credo che abbiamo altri modi di affrontare i contrasti e peraltro incitare la rivolta sociale ricorda tutti i nuovi tempi che non vorremmo mai più vedere.